Salve a tutti da Thomas Tricker e benvenuti. Puntata numero 8, puntata numero 9, spoiler, ma queste cose le sapete già, partiamo subito. La puntata numero 8 mi è piaciuta veramente tanto, è stata una puntata esplosiva, sono successe tantissime cose, colpi di scena, incredibilmente dei veri colpi di scena. Allora, finalmente a Storybrooke qualcuno va a dare un calcio in culo a Artù e sono veramente contento di questo. Viene smascherato e viene imprigionato. Il Principe Azzurro ha messo dietro le sbarre Artù, non avrei mai pensato che in vita mia avrei detto mai una frase del genere. Comunque, Artù naturalmente anche dietro le sbarre non ha nessunissima intenzione di aiutare e nessuno ci mancherebbe anche altro. Hook chiede aiuto addirittura a Rampolstilskin per quanto riguarda Emma, cosa deve fare con lei, cosa non deve fare, se deve continuare a provare ad aiutarla, a offrire il suo aiuto. In tre motivi naturalmente dà un suo consiglio a Hook, ma come vedremo alla fine puntata non gli sarà poi così utile. Anche a Camelot una situazione molto simile. Merlino è sotto il controllo di Artù. Questo porta a uno scontro tra Merlino e Artù, che ricordava un po' la battaglia finale tra Harry Potter e Voldemort. Comunque, a parte questo, è stata una battaglia molto bella, interessante. Merlino riesce a opporsi al potere della spada Excalibur, della metà col suo nome. Riesce a liberare i genitori di Emma, Hook si libera da solo perché è l'unico con un po' di cervello lì in mezzo. Emma riesce ad imprigionare Zelina. Artù viene disarmato e scappa ovviamente con Zelina che è diventata la sua nuova alleata. A Storybrooke, grazie alla magia oscura di Emma, Zelina è sul punto di partorirele. Le cresce il pancione in un anno secondo, credo che questo sia l'incubo di tutte le mamme. E viene portata in ospedale per fare la partorirele. Dove ritroviamo un personaggio che ci è mancato tantissimo. Il Dottor Whale, che visto che c'era già molto simpatico prima, ha pensato bene di aumentare questo grado di apprezzamento nei confronti del pubblico tingendosi i capelli di un biondo... No, no Comet, non ce la faccio neanche fare una battuta, non ce la faccio veramente. Ma non abbiamo il tempo di stare fermi, dobbiamo ritornare subito a Camelot, dove si è ormai a un passo da riunire Excalibur e liberare Emma dall'oscurità. Ed è proprio questo il problema, sembra che Emma non ci riesca o non voglia. Non ne siamo tanto sicuri e forse non lo sapremo mai proprio fino alla fine di tutta questa faccenda. Anche in un bellissimo dialogo che c'è tra Emma e Regina non sembra esserci una soluzione a questa situazione. Emma ha paura di qualcosa. E questo qualcosa sembra essere un po' la possibilità di andare a vivere con Uc, cioè quella di fare coppia fissa. Loro parlano paura del futuro ovviamente, è la convivenza. dai, è inutile che cerchiamo di romanzarla. È la convivenza, è lo stare insieme, mettere su famiglia e sistemarsi, eccetera, eccetera. Interessante perché riporta la serie un po' come era nella prima stagione, problemi reali di persone reali e dove il mondo delle fiabe, della fantasia, era un giusto contorno. Questo piccolo momento mi è piaciuto tanto. Ma ovviamente dobbiamo ritornare subito all'azione, dobbiamo ritornare a Storybrooke. Zelina Partorito, una bambina, la figlia di Robin Hood, che come tutti i bambini che nascono in c'era una volta, rimane nelle braccia dei genitori per circa tre secondi e mezzo. Infatti, proprio in quel momento arriva Emma e scopriamo che il suo obiettivo non era la bambina, ma era la stessa Zelina ed è stato un colpo di scena che veramente mi è piaciuto. Perché? In c'era una volta, se ricordate, ci sono molti casi in cui un bambino appena nato è un ingrediente fondamentale di un incantesimo, una maledizione, qualcosa. Il che è abbastanza inquietante per il numero di volte in cui succede questa cosa. In ogni caso, non sappiamo ancora cos'è, Emma voglia farci con Zelina, ma lo scopriamo pochissimo tempo dopo. Vuole utilizzare il suo corpo come contenitore dell'oscurità e poi ucciderla per liberarsene definitivamente. Ma qual è il problema? Il problema è che a Camelot è successa una cosa che non doveva succedere, naturalmente. Si è a un passo da riunire Excalibur, di raggiungere lo scopo di tutta questa avventura. Merlino è pronto, Emma è pronta, la spada è pronta per essere riunita. Si è a un passo da lieto fine, giustamente qualcosa deve andare storto. Infatti una ferita che Uka ha rimediato nello scontro con Artù ritorna fuori perché è una ferita provocata da Excalibur e sono ferite immortali che non possono guarire. Ho capito, ma che sfiga abbiamo nella stessa identica stanza. Lo stregone più potente del mondo. Lo scuro che è il suo diretto antagonista e come potenza, abbiamo visto, siamo lì. Abbiamo una delle armi più potenti del mondo, non riusciamo a venirne fuori con un taglietto. Questo ci porta al vero obiettivo di Emma fin dall'inizio. Infatti scopriamo che per curare quella ferita Emma fa diventare Uka l'oscuro. Questo è stato il colpo di scena che veramente dopo anni che guardo film, che guardo serie tv, che veramente dopo tantissimo tempo mi ha fatto fare la classica faccia da O. Mio. Dio. Subito sostituita da No. 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 Non ci credi fino alla fine della puntata. Non ci credi veramente. Non ci credi nel momento in cui succede. Non ci credi nel momento in cui Uka viene fuori dalla cripta dell'oscuro. Non ci credi neanche troppo quando si vede il suo nome sulla spada a fianco a quella di Emma e quella scena è stata bellissima. Quell'idea è stata veramente geniale. Ma la faccia che fa Uka quando guarda Emma, quando scopre tutto questo, è stata una cosa da brividi. Veramente. Una cosa da paura allo stato puro. Una cattiveria nei suoi occhi che non gli avevi mai visto. Semplicemente fantastico. Una puntata veramente stupenda. Colpi di scena. Zelina è ritornata in campo anche a Storybrooke perché si è ripresa la magia. Uka le ha tolto il braccialetto. Emma è stata imprigionata. Adesso Emma è nelle mani di Uka. Mi dispiace ripetermi perché l'ho detto anche l'altra volta ma adesso sono uccelli senza zucchero. Veramente. Tanto. Ci sono due oscuri. Non uno. Due. Abbiamo un personaggio irritantissimo. Artù. Abbiamo una cattiva che non riusciamo ad odiare tantissimo ma che dovremmo farlo. Che è Zelina. Abbiamo un oscuro. Due oscuri. Un ex oscuro. La moglie dell'ex oscuro. Insomma. È un casino. La battaglia finale comincia ad avvicinarsi. Arriviamo al momento in cui Uka guarda Emma negli occhi. E dice questa frase che è veramente terrorizzante. Ma prima dobbiamo decidere cosa fare con lei. E ovviamente finisce la puntata. E giustamente visto che sono successe troppe cose in questa puntata la puntata successiva è un po' sottotono. E ritorna alla storia di Mary dall'intera puntata dedicata a lei. Di nuovo. Allora ragazzi. Io l'ho detto l'altra volta. L'attrice e il personaggio mi piacciono tantissimo. Però potremmo anche smetterla con questi flashback. Dai. Potremmo anche sorvolare su certi dettagli della sua storia. No. E invece no. Perché in questa puntata scopriamo un po' di più su suo padre. Scopriamo che lei diventa regina. Deve governare. Non sa come fare. Chiede aiuto. Non chiede aiuto. Chiede aiuto a una strega che era andata a chiedere aiuto anche al suo padre. Che le ha dato un elmo. Che non le ha dato un elmo. Che deve farsi restituire l'elmo. Che non deve farsi restituire l'elmo. Perché in realtà non vuole farsi restituire il elmo. Ma vuole solamente metterla alla prova. Io credo che gli sceneggiatori. I creatori della serie. Quando devono scrivere una puntata. La scrivono normale. E poi dicono. Ma sai cosa? Qui ci starebbe bene. Un bello stravolgimento di trama. Ma sai cosa? Ma anche qui ci starebbe bene uno stravolgimento di trama. Ma sai cosa? Abbiamo fatto credo fino ad adesso questa cosa. Potremmo ribaltarla di colpo. Il problema è che lo fanno 17 volte in una puntata. Comincia a dare un po' fastidio dopo un po'. Li amiamo anche per questo. Lo sappiamo. In questa puntata abbiamo anche i personaggi di Artù e Zelina. Che stanno anche loro cercando l'elmo del padre di Merida. Perché quell'elmo obbliga gli uomini a combattere per uno scopo. Anche se li porterà a morte certa. Ed è chiaro perché Artù lo voglia. Perché diciamoci la verità Artù come leader. E altri due grandi ritorni nella saga di Once Upon a Time. Ma ovviamente sto parlando di Mulan e di Red. Di Capucetto Rosso e Ruby. Quanti nomi li ha andati. E non so voi ragazzi. Ma quando ho visto Mulan nella puntata. La prima cosa che mi è venuto in mente è stata una roba tipo. Oddio. Ma non è che adesso Mulan e Merida si mettono insieme tipo. E poi. Diciamo le cose come stanno. Ci avevate pensato anche voi. Non dite di no. E poi è saltata fuori anche Ruby. E la puntata prosegue con la classica struttura di C'era una volta. Abbiamo il solito viaggio in un luogo. Il controviaggio. Abbiamo dei dialoghi ispiratissimi. Per carità di Dio. Perché comunque siamo abituati a un buon livello. Sia di recitazione. Sia ovviamente di dialoghi. Per carità. Bello. Stupendo. Andiamo all'ovviamente scontato finale di puntata. Dove Merida. Dove la reputazione del padre di Merida viene ristabilita. Non ha mai usato l'elmo per comandare i suoi uomini. Ma ha usato solamente le sue doti di leader. Merida si riprende l'elmo. Riprende il suo posto al trono. Sul finale abbiamo lo spunto di cosa succederà dopo. Merida vuole andare a fare un culo così ad Artù. Il problema è che c'è una lunga lista. Una lunga fila da rispettare. Prima di lei ci sono tante altre persone. Io compreso tra l'altro. Detto questo. Ho dato un'occhiata agli ascolti della serie. Non di tutte le puntate. Tuttavia. La serie si mantiene stabile. Non sono numeri da capogiro. Non sono i numeri della prima stagione. Naturalmente. Però si mantiene su una certa stabilità. Il che è una cosa positiva. Speriamo bene. Speriamo che si riprenda nella seconda metà di stagione. Come altre volte è già successo. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo al prossimo video con le prossime recensioni delle puntate. E vi saluto. Ciao a tutti.